Aveva un ruolo di mediazione con alcune aziende agricole tra il ferrarese e il bolognese per fornire mano d'opera a basso costo. Inoltre trasportava una cinquantina di persone dai luoghi di lavoro alle loro abitazioni, stanze il più delle volte fatiscenti e senza i minimi standard igienici, alloggi messi a disposizione dallo stesso caporale nei comuni di Porto Maggiore e Argenta. A fare tutto questo avrebbe guadagnato dal 2019 al 2022 170 mila euro da quote che l'uomo di origine pakistana residente nell'argentano avrebbe trattenuto dalle paghe mensili dei braccianti suoi connazionali, definite vere e proprie tangenti dagli investigatori che quantificavano l'obolo tra il 40 e il 50 per cento della paga mensile, in media dagli 800 ai 1200 euro. E' quanto ha fatto emergere dalla guardia di finanza di Comacchio nell'ultima operazione contro il caporalato denominata Al Capone. L'uomo è stato denunciato. Fenomeno questo che continua a essere una piaga in diversi luoghi d'Italia e tra cui anche il ferrarese. Da tempo le forze dell'ordine, guardie di finanza in primis, stavano indagando. Tra le mansioni svolte da questi uomini che avevano bisogno di lavorare e di mantenere a distanza le proprie famiglie in Pakistan, c'erano attività come quelle stagionali agricole, dalla potatura degli alberi alla semina alla raccolta dei prodotti della terra. Per assicurarsi di ricevere puntualmente a fine mese il corrispettivo estorto ai lavoratori, il cosiddetto caporale avrebbe accompagnato personalmente i propri connazionali ai bancomat degli istituti di credito del ferrarese, dove faceva prelevare le somme di denaro richieste. Secondo le fiamme gialle sarebbero stati rinvenuti anche i libri mastri, sui quali l'indagato avrebbe annotato in modo sistematico le generalità dei lavoratori gestiti, le ore di lavoro prestate e le somme di denaro estorte. Secondo la guardia di finanza, questo fenomeno trova terreno fertile tra lavoratori, spesso immigrati, che vivono in particolari condizioni di vulnerabilità, come essere senza alloggio, oltre a una scarsa conoscenza della lingua italiana e degli strumenti di tutela. In più, come spesso sottolineato dai protagonisti del settore agricolo estense, la forza del lavoro scarseggia e il rischio di un vuoto strutturale tra domanda e offerta spingerebbe un fenomeno come questo, per colmare la mancanza di manodopera nei campi.